Al Museo Barbella di Chieti, Don Marcello Stanzione, il maggiore esperto di Angeli, ha tenuto una conferenza sulla figura dell'Arcangelo Michele. Sono intervenuti Antonio Di Giosa, fatta direttore artistico della nuova libreria Bosio e Angela Rossi, docente e angelologa, a moderare l'incontro Massimo Pasqualone, critico d'arte e letterario già docente di storia della Chiesa. Per l'occasione Eugenia Tabellione, pittrice e critico d'arte, ha esposto un quadro a tema e Maria Cristina Stumpo, allieva della Scuola di Recitazione del Teatro Maruccino, diretta da Giuliana Antenucci, ha recitato alcune preghiere angeliche con interventi musicali. La diocesi di Chieti è unita anche alla diocesi di Vasto e San Michele è il particolare protettore di questa diocesi di Vasto, però certamente a Chieti ci sono tantissimi devoti dell'Arcangelo, che è importantissimo, è il capo di tutte le gerarchie angeliche. Questa sera io presenterò questo libro che si intitola L'Arcangelo Michele e i suoi devoti amici. In modo particolare parlerò del vostro santo Camillo De Lellis, che aveva una particolare venerazione per San Michele. E poi parlerò anche di Santa Giovanna d'Arco, il suo grande amore a San Michele. Quest'anno sono cento anni che è diventata patrona della Francia. E di San Michele Arcangelo ha parlato anche Angela Rossi, docente universitaria e anche la angelologa. Possiamo dire che è una figura, è un arcangelo importantissimo, è un capo, è il capo del Principe delle Milizie Celesti, il cui culto è riconosciuto in Oriente, in Occidente, molto sentito in Abruzzo, Puglia e Molise, grazie alla transumanza. Ma anche a Chieti è molto presente la sua figura, grazie anche alle opere d'arte, alle chiese che noi abbiamo qui in città. E a proposito abbiamo qui i nobili della Civita Astiatina, che fanno parte dell'Associazione Teate Nostra. Infatti i chietini sanno, i veri chietini, quelli autoctoni, sanno che Piazza Matteotti in realtà si chiamava Piano Sant'Angelo, cioè la Piano di San Michele Arcangelo, perché c'era una chiesa che purtroppo è stata distrutta nel 1937. A moderare l'incontro Massimo Pasqualone, critico d'arte e letterario già docente di storia della chiesa. Museo Barbella accoglie questo pomeriggio, Don Marcello Stanzione, 350 libri sugli angeli, il maggiore esperto che penso abbiamo al mondo, in un pomeriggio di riflessione e di studio, soprattutto in un pomeriggio di speranza all'insegna di San Michele Arcangelo.